hola amicos benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su among the sleep un gioco horror bellissimo visto che aurora c'ha molto da fare in questo periodo praticamente è impegnatissima e quindi lo faccio io questo video è bellissimo ok partiamo con la storia la continuiamo visto che già l'ho fatta papà cosa stai facendo col cappello sto facendo il video tu avevi detto che eri impegnata scusami ma ho detto che dovevi aprire il gioco almeno lo potevamo fare insieme scusa avevi detto che stavi impegnata e non poteva il mio cappello per giunta no lo vogliamo fare insieme direi se lo vogliamo fare insieme dovevamo farlo insieme prepara non inizia il video non voglio fare da solo il il canale è tuo allora io devo fare il video io o tu come faccio con te togliti fammi spazio ok brutto bagarozzo chiudi la porta mamma mia pure bagarozzo si bagarozzo perfetto vuoi anche la cuffia almeno una ok che dobbiamo fare il video vabbè pazienza non stai facendo il video per caso vuoi anche il mio cappello visto che me l'hai rubato anche se è caldo lo so stavo sudando come fai non lo so però vabbè e vabbè dai poi i capelli non ci stanno io direi anche di ricominciare quindi hola amica sei benvenuti in questo nuovissimo video anche se questo era un video un po rubato direi all'inizio vabbè io ci ho provato comunque oggi siamo qua su among the sleep e ho già l'ansia nel mio cuoricino potente perché ho paura e infatti papà ha fatto bene in realtà in realtà ora che ci faccio io ciao a tutti ciao ciao sono obbligata a farlo perché se no è un casino bene anche perché abbiamo iniziato la storia dobbiamo finirla già abbiamo iniziato la storia insieme dobbiamo finirla insieme dopo di tempo che in effetti non facciamo un the sleep è veramente un gioco bellissimo non so neanche se mi ricordo i tasti sinceramente però andiamo ok eccoci ragazzi si infatti eravamo qui abbiamo preso tipo dei pezzi ecco infatti eravamo appena entrati io direi anche di riandarmene che le dici tu no non so dove non mi ricordo veramente perché appunto infatti eravamo attraversati una specie di quadro che era sì esatto ne abbiamo già attraversato uno mi sembra o l'avevamo l'avevamo preso in qualche modo avevamo messo facciamo un attimo riepilogo delle cose almeno abbiamo un pochino sì infatti mi sembra che un pezzo del quadro e un pezzo delle cose era lì oddio che era è cascata come faccio a rialzarvela non me lo ricordo ah ok con lo spazio ok infatti qua vedi ah sì dobbiamo aggiungere dei pezzi di foglio ok però dove ah questo è infatti stiamo andando là perchè è l'unica cosa comunque aperta infatti mi ricordo che un pezzo era lì un quadro è un pezzo era lì era lì dietro quindi possiamo andare soltanto qua e poi io non devo andare sì è bello forse infatti era meglio che facevi tu il video però no no mannaggia che continua a cascare no più che altro so proprio sono proprio le canzoni inquietanti magari non in gioco in sé non il gioco in sé ma proprio ma è questo il bello no ma non si ora evidentemente non si deve non lo so oddio stavo andando tranquilla io no perchè è più veloce c'è l'acqua tutto che fa più veloce ah ok così si si affaccia forse si che sto cerchendo il testo sopravano tutti i testi possibili immaginabili per vedere quale in realtà si diciamo accuccia perché potrebbe essere utile non lo so vabbè evidentemente quanto è ora lo vedremo ok non so dove dobbiamo andare sinceramente ok credo che questa acqua sia un po' velenosa diciamo non lo so dici e prova non credo e noi sono delle bolle là sotto e che fai non ci vai ma non ci vuoi andare secondo me non ci vuoi andare sopra l'acqua infatti anche secondo me ok forse almeno che ci un attimo alziamo veloce veloce ok alza la visuale non ci vedo e perché è anche molto buio forse qui possiamo andare ok ok alza la visuale vai 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 mi proteggi tu allora non dobbiamo trovare di quelle bolle non mi convincono capito e lo so però un po' schifo e questo è bello però dobbiamo trovare altri pezzi giusto perché ne mancano due tre non mi ricordo qualcosa stava la no ok no ci sono stati qua a no è l'altro pezzo che figata no che è un cassetto però è di cassetti dentro un albero e quindi e come si passa esatta no non so come ha fatto ma è veramente agile questa bambina aperta ah sì ok pensavo che non si apri la realtà ok forse un po' di più ok vieni vai salta mi senti si rumori tu si che cos'è non so mi sembra non sono familiare ma non saprei tipo dei fuori d'artificio ok dicevo di passare da qualche parte dove no non si può passare cosa che era quello le bolle sì sì sono le bolle ma io ho paura che magari c'è qualcuno sotto le bolle perché di solito dei respiri sono appunto quelli che causano le bolle no sono i pesciolini di ragno ecco perché non vuoi andare c'è un cancello c'è anche una serie ho visto eh sì ma vedi se ti indica il cancello ah forse dobbiamo andare in effetti di su ma scusa siamo tornati al punto di partenza no ho un'altra cosa no noi siamo soltanto andati avanti ah forse è la stessa sedia cioè le stesse eh sì usano le stesse cose ok ok per poter andare avanti comunque non è che è alto e lo so però ok ah quindi vai a finire sempre dentro la casa comunque infatti è una casa tipo piena di il pavimento è rotto c'è una pianta in mezzo c'è un camino acceso per giunta quindi qualcuno si stava riscaldando forse ok perfetto speriamo che tipo traccio tutti si riaccede che automatico magari non lo spero tanto ah vai scendi là scendi no no dove torna su quella tavola qua ah ok 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 un fungiglante si potrebbe ah no oddio ah noi siamo soltanto eh forse si col piede eh perché ho visto qualcosa tipo non so non so come si faceva splash che c'erano io che è quello no ma questo è solo un giocattolo quindi se lo puoi prendere no ah si allora puoi di là però non è che lo devi mettere troppo tardi oddio che schifo inquietante no che è che è quello vabbè sono un giocattolo in po' per fortuna che è una fissura piccola non credo che ci sia qualcuno infatti cioè che giocattoli so ma che ma ma mettiti in piedi e poi sali sopra ma vai a cagare chiudi sta cosa chiudi no niente non si chiude ok non credo che possiamo fare a c'è una grata tito oddio che è sto coso un disegno abbiamo uno spostam e so grab Materasso che è un materasso questo non lo so solo c'è un disegno non so qualcuno Mezzo un bambino mezzo all'erba comunque se non si capisce niente e ok in mezzo qui c'è qualcosa di strano Ho tipo visto si apre di fiorelline Sono si apre la grata per freddo ok speriamo che non ci sia nessuno di così piccolo che ci possa raggiungere magari che era quello che questa cosa che Ho visto una cosa in fondo Ok un altro pezzo Oddio si ok E poi Credo sia stato troppo facile Troppo facile Si eccolo Sia stato troppo facile Ah quindi riusciamo sicuramente dove sta il quadro No dall'albero invece guarda un po' Si apre Dobbiamo tornare indietro perché questo è un albero Ecco perché forse i cassetti si aprono per farti riservi E perché non potevamo dare il trattamento qua Come ho fatto a non vederlo mi spiega No c'era c'è un ricinto prima non c'era E prova No dico prima non c'era un ricinto Non c'era anche questo prima Ma non ci puoi andare secondo me Secondo me è Ah no credo sia un altro albero Perché non era così basso quello che sa Si Il ricinto non c'era prima di tutto Questo coso non so che cos'è Non c'era Tesoro Ora ci possiamo salire Qua ci riusciamo Si Ma ci sono le radici Comunque è Oh I funghetti Che è un tunnel Sì infatti Ma ci deve andare no Credo di sì Vai Buttati Che non c'è nient'altro Ah ecco vedi adesso siamo tornati là Ok Quindi abbiamo un altro pezzo forse da mettere Quello E forse un altro Perché c'erano altri due quadri Quindi forse tre Questo in altri due forse Non lo so C'erano altri due quadri Non so se Allora con la torniamo Dove eravamo prima Sono delle voci Ciao 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 Questo fungo Vai Ma No non puoi tornare indietro Quindi la facciamo la stessa strada di prima No però siccome si illuminava la finestra là Guarda Vedi Sarà un fuoco o qualcosa Eh ma Mi sa che ci siamo Eh sì perché là c'era la sedia Dove abbiamo raggiunto quello Siamo andati là per prendere il pezzo Quindi vai avanti Vediamo se dobbiamo mettere quel pezzo là Infatti dobbiamo proseguire Qua ci siamo passati già no Sì Eh dobbiamo tornare indietro Eh in questo modo No è no è Eh no è troppo facile raga Troppo 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 Eh però fino adesso non è uscito niente Eh per essere un horror Veloce È troppo prevedibile Cioè nel senso Tu dopo un po' I horror li conosci ormai Capito Eh lo so però Ho messo un attimo rifugiando qui Magari Evidentemente ancora non è ora No succede qualcosa Appena Secondo me succede qualcosa No Secondo me no Sì secondo me succede qualcosa Appena siamo Appena stiamo cercando di andare là No Vuoi vedere che succede qualcosa? Io sento qualcosa dietro di me Non voglio girarmi Sta anche salvando Guarda guarda come ci prende eh E gira di nuovo vedi? No no Ah no Uh Non è successo niente Te l'ho detto Sto io a farlo tranquillo no? Infatti Hai ragione Teddy Hai ragione Hai ragione No altri due pezzi Uno ce l'abbiamo Quindi un altro Mi sta facendo male il cuore la ragazza Mi sta facendo male il cuore ragazzi Vai a perdere un'altra strada No un attimo Stiamo costruendo appunto qualcosa Mi vedi come Vedo comunque una donna credo Che appunto Si Mi vedi all'acqua Una bambina con dei libri Credo che Qua infatti mi sembra un libro Quindi ci manca solo la faccia della donna? Tipo quel quadro da dire che si vede in fondo no? Eh però Stanno in una libreria mi sembra tipo Una biblioteca Credo che comunque questo sia un libro Presumo Non lo so Vabbè ragazzi Allora Davanti a questo quadro Che credo sia Abbastanza carino Magari a meno che La donna non c'ha una faccia mostruosa Orribile Alla fine succede qualcosa di cattivo Ma credo che lì ci sia il ricordo Perché come all'altro Come al parco giochi C'era quel ponte Tutto Si Storano Tutto ricordo Comunque Lo so che magari possiamo essere cattivi Ma sinceramente Io Voglio fermarmi qua Lui non lo so Perché E' tutto tranquillo E non importa niente Di quello che potrebbe succedere No vabbè Io Io Seguo gli horror Quindi sto bello tranquillo Però mi piace Mi piace farlo con te Ho paura io Infatti Era mio che lo faci di tu La prossima volta Lo fa lui Da solo Io me ne vado Via E quindi? Senza motivo E comunque appunto Io direi che possiamo Fermarci qua Con questo Episodio Lasciate mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Ciao a tutti Sì